Mi accende temente? Ho smesso di fumare. E poi non credevo che fosse permesso qui dentro. E che fanno? Mi arrestano per aver fumato? Adesso so cosa comprarle per Natale. Perché non mi regala un attrezzo per sviluppare le cosce? Ho rotto gli ultimi tre. Davvero? Andiamo nel mio appartamento a parlare della nostra missione. Sono morbida argilla nelle sue mani. Niente rimane morbido nelle mie mani.